Il registro imprese, strumento di trasparenza economica, diventa ancora più trasparente. Attraverso la consultazione dei dati, aziende, amministrazioni, professionisti e cittadini possono ottenere informazioni ancora più chiare, complete, accessibili e garantite. Informazioni più chiare e complete grazie alla nuova veste grafica della visura e di tutti i documenti ufficiali, che rende più leggibili i principali dati dell'impresa. Informazioni più accessibili e garantite grazie al QR code, che consente ovunque, in qualsiasi momento, di recuperare il documento originale direttamente da smartphone e tablet. Facciamo qualche esempio. Sulla prima pagina della visura troviamo evidenziate le principali informazioni dell'azienda, i dati anagrafici ed economici, le informazioni relativi all'attività esercitata e un riepilogo dei documenti e delle certificazioni dell'impresa. Tramite l'indice navigabile si può accedere direttamente alle informazioni da approfondire ed avere un'immediata sintesi dei dati attraverso semplici prospetti riassuntivi presenti all'inizio di ogni paragrafo. Tornando sulla prima pagina troviamo il QR code. Per leggerlo occorre scaricare l'app realizzata da Infocamere appositamente per questo servizio, con cui è possibile accedere al documento originale, certificando in questo modo l'affidabilità e l'ufficialità del dato camerale. Oggi più di ieri il registro imprese fornisce un quadro chiaro, completo e garantito delle imprese italiane.